Bologna Juventus, sarà tutto esaurito, probabile coreografia di Andrea Costa. Benvenuti nel canale. E se ami la Juventus e vuoi rimanere ben informato sulla Juve, iscriviti al canale e clicca il campanello in modo da non perderti nulla. Non c'è sconfitta a Verona per fermare il fiume rosso-blu che imperversa per le strade. Contro la Juventus dall'Ara sarà tutto esaurito. Pochi biglietti rimasti nella tribuna dorata e numerata, il resto sarà occupato dai tifosi rosso-blu e dai tanti tifosi bianconeri in Emilia-Romagna. Si è verificato un errore durante la preparazione della presente direttiva. Dopo Milano, ecco un'altra grande partita. Poi ci saranno Roma e Napoli. Sunny Spring dall'Ara si prepara a sperimentare i giochi più caldi della stagione, letteralmente. La sfida tra Bologna e Juventus è sempre stata la più sentita in piazza e Andrea Costa starebbe pensando a una coreografia durante il gioco, secondo il rapporto resto del Carlino. Ci sarà anche il patron Joy Saputo, che rimarrà qui in Italia fino a giovedì, per stare vicino alla squadra per il viaggio ad Empoli. Vuoi avere notizie veloci ed esclusive su Juventus? Iscriviti al canale e clicca sulla campana per non perderti nulla.